buongiorno buongiorno dal dottor claudio saracino da benessere ipnosi soluzione l'ipnosi dcs vera e professionale con la v maiuscola oggi rispondo ad un signore di amsterdam olanda che mi scrive quest'email dottore sto soffrendo come un cane perché la mia ragazza dopo sette anni di convivenza dalla sera alla mattina mi ha lasciato per un altro uomo e non riesco più a vivere mi vergogno di andare in giro a chiedere aiuto ma sto rischiando anche di perdere il mio posto di lavoro a causa di questa signora io l'ho tradotto con un eufemismo perché ha usato altre parolacce cosa posso fare da solo senza andare a girare cappelle perché mi vergogno mi sento a disagio con l'ipnosi dcs vera e professionale con la v maiuscola mi chiede questo signore la risposta è semplice bisogna convincere il proprio subcosciente che non ne vale la pena di soffrire perché tu soffri ti senti male in quanto da piccolino quando eri piccolino e aggiungo anche nei tre mesi nella pancia della mamma quando il cervello è formato inizia a registrare come una scatola nera di un aereo tu hai ancorato nel tuo pilota automatico nell'88 per cento della tua mente nel tuo subcosciente l'equazione tradimento abbandono uguale dolore chiamolo poi emotivo o fisico ma per me l'emotivo e il fisico sono una cosa sola non esiste distinzione tra mente e corpo come fanno in occidente i vari curi tutte uno e uno è tutto ok premesso ciò cosa puoi fare o farlo da solo utilizzando la tua immaginazione che è molto difficile oppure andare presso un professionista perché il sottoscritto a sospeso al momento le sessioni online di ipnosi dcs soprattutto su skype in qualsiasi parte del mondo per problemi di tempo di impegni oppure ancora oppure ancora scaricarti un audio mp3 dcs un vero e proprio capolavoro che proviene direttamente da los angeles baby hills dal titolo no relazioni negative no addio ex amori che serve proprio per quelle persone che soffrono dopo una separazione da un'altra persona e quindi stanno male ok poi se esiste il divorzio riguarda i divorziati ma questo è un altro discorso e tu seguendo alla lettera le istruzioni molto facile la prova di un nonno la prova di un idiota la prova di un bigro ti libererai di quel dolore affettivo emotivo chiamolo come vuoi di chi ti ha messo le corna di chi ti ha tradito di chi ha tradito le tue aspettative di chi ti ha fatto ti fa sentire male come un cane bastonato non credere nessuna parola del sottoscritto devi soltanto fare dell'azione e meravigliarti del potere della tua mente visita il mio sito internet www.iprologiassociati.com la mia fanpage su facebook ipnosi autiprosi del dottor claudio saracino iscriviti a questo canale youtube benessere ipnosi soluzioni di cese del dottor claudio saracino e faccia il condivido con amici e parenti perché può essere quel quid quella molla che gli ipoti può cambiare la vita e seguimi anche sulle altre social instagram e twitter benessere ipnosi soluzioni di cese del dottor claudio saracino un bacio un abbraccio amico mia amica mia e alla prossima dal dottor claudio saracino la tua ciao